Ecco, l'ultima volta che l'hanno visto, 29 anni fa, Messina De Naro era testimone in un processo a Marsala. Tre mesi dopo scattò il mandato di cattura. Giovanna Cucè. Buongiorno, il signor Messina De Naro Matteo, mi ricordo che ha l'obbligo di dire la verità. L'ultima volta che l'hanno visto e sentito in un tribunale era il marzo del 1993. Matteo Messina De Naro ha già partecipato alle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Entra in un'aula a Marsala mentre progetta gli attentati di Firenze, Milano e Roma. Usiccu, lo smilzo, parlava così arrogante e infastidito. Prima di darsi alla fuga, ai tempi era incensurato. 29 anni sono trascorsi da questa deposizione anni di arresti tra amici, fedelissimi e parenti. Mezza famiglia in carcere, sorelle e rispettivi mariti, fedelissimi anche loro per lui, l'introvabile. Eppure menzionato come se fosse sempre presente da interpellare per dirimere controversie e risolvere problemi. Iddu Dogu è lui e qui, dicevano alcuni indagati qualche anno fa, una rete fittissima sempre nello storico mandamento di Castelvetrano, quello del padre Don Ciccio. Matteo Messina, denaro, colpevole dei reati, scritti lì. Un fantasma mentre lo condannavano per essere stato uno dei mandanti delle stragi del 92. Il banco degli imputati continua a restare vuoto. Tutto di fatto, a cui si fiume un po' è stato uno dei mandanti del progetto. Tutto di fatto, a cui si fiume un po' è stato uno dei mandanti delle stragi del 12. Io non ci fiume un po' è stato uno dei mandanti delle vaccini che fatte. Grazie a tutti